ben tornati in questo gameplay di minecraft siamo qui con la dodicissima puntata e un beppo che manchiamo oggi, abbiamo detto già in video e chiaramente in mondo non ho pensato l'abbiamo ricostruito, perché il launcher non ha funzionato abbiamo perso tutto e l'ho ricostruito e ok questa puntata faremo la casa nonostante i creeper ci abbiano l'ho fatto da family friendly quindi non lo sento i grippi a fare due volte la faccia alla l'alvar quindi i creeper o menso i beck in the mind e non prendiamoci chiacchiere parliamo con il video eccoci qui allora innanzitutto salutiamo domenico è un nostro fan che fa da 6 canale guardate di miglia ma soprattutto di me piace in modo particolare quelli di minecraft allora perché minecraft non l'abbiamo più fatto perché è nato un problema un po' di problemi diciamo che noi usavamo il launcher craccato originale di minecraft ma un giorno ha smesso di funzionare io cercherò di non dire parole è perché pensa ai family friendly categoria come si dice categoria della ciavi bravi quindi questa maleditta questa maledizione per bacco e quindi non ha funzionato abbiamo perso giustamente anche il mondo quindi abbiamo perso tutto maleditto minecraft noi ci risorgeremo ce la faremo quindi abbiamo ricostruito il mondo da zero allora quindi c'è dall'ultima puntata abbiamo perso tutto e ora eravamo rimasti a puntata l'undicima quindi questa qua è la dodicima infatti vabbè poi mi sono messo ci ho messo quasi un bel po' l'ho ricostruito vabbè anche se alcune cose sono diverse ma diciamo che tecnicamente è quasi perfettamente uguale a quello che abbiamo la canale alcune cose come per dire la torre in felle avevamo messo sì le basi della torre in felle che magari poi li faremo più la però le cose sono rimaste fondamentalmente il mondo è quello e le cose sono quelle la posizione è quella anche perché noi mettiamo il seme e quindi eventualmente lo possiamo rimettere così perché sembra lo stesso quindi ho fatto il portale ho rifatto le farm a beh anche queste l'ho cambiato un poco poi ovviamente si entra torcia vai via maledetta torcia si rimane anche birichina questa birichina il deposito birichino in una cesta e abbiamo fatto tutto il punto e là c'è un birichino guarda vediamo se lo riesco a prendere al birichino che adesso per fortuna possiamo anche zoomare no ok ho fatto schifo aspetta moderiamo i termini ho fatto maledizio ma faccio schifo maledizione andiamo di maledizione così youtube dirà oh mio dio hanno fatto video family friendly troppo bravi che li devo premiare sbloccare i video bloccati vabbè questo è il maleditto ponte il famoso monte che però che mancano le antenne dobbiamo mettere perché mi piacevamo poi le mettiamo quindi qua essenzia mette una torcia torcia e un ovvio fuoco tutto di legno che così ho preso fuoco ok poi qua vabbè sta come si chiama la miniera e ora ricostruiamo vabbè poi il fatta albero il mitico fatta albero dove è esploso un creeper oh man so we back in the night mi era dovuto anche quello ripristinare si ok allora dico aspetta oh shit andiamo oh shit ma è una parola un po' mascherata vabbè questa lasciamola passare allora c'è chi capisce e chi no ah shit i miconi non esagerate abbiamo detto che siamo in fascia protetta quindi facciamo i bravi così che chi lo può guardare lo guarda senza problemi dice ma le parole qua la cosicoli facciamo i bravi niente parole ok shit facciamo i bravi ma io ci sto provando caspita perbacco perbacco caspiterina no no creeper oh man so we back in the night il dialetto si può usare il dialetto si può usare il dialetto si può usare il dialetto ma deve essere feminine friendly ma il dialetto ma in spettatorina può ahhh porca putt allora se tutto va bene siamo tornati e non dovrebbe lagare non dovrebbe il problema è questo non dovrebbe perché gli uomini non mancano mai sì ci abbiamo messo però quasi un'ora a fare a sistemare ancora una volta ancora una volta perché questo il minecraft succede sempre a noi in modo particolare si in modo particolare allora diciamo che ce l'ho a perdere completamente il muro se lo cerchiamo anche noi però perché infatti che mi regula ma è come se mi sto zappando i piedi quindi no perché comunque teniamo la roba craccata non originale ehhh vabbè per adesso va bene per adesso sono tre anni che no sono quasi due anni si no sono due anni che facciamo i video eh quasi tre quasi tre quasi tre si e ancora eccolo questi come devo mascherarlo porca mannaggia una miseria mannaggia una miseria sono già tre anni che facciamo i video mannaggia il suino ahahah come ma fanno un video come mascherare le parolacce perché sempre facciamo i video ma però a pensarci che sono tre anni che facciamo i video ah 2017 2018 2019 sono tre anni ah però aspetta attività però che abbiamo iniziato a metterci a fare i video perché poi se dobbiamo contare da quando sei iscritto sono sei eh molti anni si perché caricavo video con molta meno frequenza una volta ogni anno se è tutto eh due i video all'anno voglio direci quindi proprio veramente bassissimo come frequenza ma che qua sto terraformando perché è un creeper molto birichino molto cattivo cattivo birichino molto cattivo ci ha ci ha camicallato ci ha camicallato ci ha camicallato ci ha il dialetto ci ha il dialetto ma comunque è poco scurrile è poco elegante poco elegante poco elegante ma domenico è napoletano si si e ci capisce lui ciao domenico mamma sono in tv ciao domenico allora qua dobbiamo dobbiamo ricostruire la casa si? si dobbiamo costruire secondo me dovrebbe essere un po' più grande allora io la smantello e la costruisci tu perché l'altra volta quando la costruisci cioè questa qua la costruisci perché queste so come la so fare va bene te l'ho detto mi piace anche però io la farei molto grande e te lo sape solitamente le faccio farmi al posto di distruggerla si lascia la e si fa tipo qua perché se la qua qua se la estendiamo la espandiamo però si fanno due case devi fare due? eh e qua ci possiamo mettere la sua provisoria ok tipo se viene un creeper emigrato esplode la gomma ok allora come la vuoi costruire? senti mi piace di legno di legno cine quindi legna legna tanta legna come la vecchia maniera allora quindi prendiamo la legna 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 eh torcia e poi la pietra si? pietra che pietra? quella che abbiamo che abbiamo? pietra andiamo pure questa e ok penso che ora sono come si sono per non dire sono non ho capito ma ci credi sono ah sono a fare i tuoi sono a fare i tuoi sono a fare i tuoi affari di famiglia cerchiamo di non esagerare allora quindi dobbiamo fare una bellaccia una bellaccia una bellaccia una bellaccia quindi il bicione e ok puoi andare andiamo a comandare andiamo ti ricordi come si gioca anche perchè vabbè dobbiamo essere onesti se giocare sul pc ma non bene lo sai ok quindi ora vedete conteremo tutti i fail di Mariano ma poi aspetta ma poi vedi qua riesci a vedere qua più o meno eh però è l'unica via ci proverò facciamo un po' per uno eh non lo so tu sei l'unico architetto buono perché c'è Simone c'è Simone ma stai in Calabria no vabbè tanta stimo per Simone però io penso che a livello di costruzione Dissing si qui è partito il dissing dai voglio dire il partito il dissing mi sai bene quello che ho costruito tu lo sai voglio capire che loro non lo sanno però tu lo sai che cosa ho costruito si mi è partito il dissing ok vabbè anche io sto costruire sui tutorial guardando i tutorial ma io l'ho fatto il stesso tutorial attenzione io ho fatto il stesso tutorial al giovinastro non partiamo male male allora allora innanzitutto però non mi hai fatto nemmi rendere conto vabbè ma perché mi hai dato questo mezzo blocco no perché guarda tu hai visto una rotellina no ma tu mi hai dato questo qua così a casaccio caso oh è partito un caso si un caso un caso e che caso se no se non vuoi fare una cosa allora tu mi fai vedere dove devo piazzare il blocco in città e poi costruisci ok dimmi se appartengono piazza blocco l'interno piazzato io chiamato questa qua poi facciamo un attimo il sentiero così sappiamo dove inizia la casa ma esatto quindi per fare un albero ciò vedi come siamo family friend in questa puntata ma poi dove lo troviamo il suono del beep oh cavolo a voi in quel momento togliamo l'audio e se lo troviamo perché no ma lo troveremo dai si ruone gli effetti facciamo il sondaggio cliccate qua in a ah no non posso qua in alto cliccate qua in alto secondo te che troveremo secondo voi troveremo mai il beep e si se non lo faccio io lo registriamo e lo registriamo e poi lo facciamo si risolve si risolve si risolve poi facciamolo giustamente a 2 oppure lo faccio tipo con la voce di Topolino ragazzi e così corriamo questa puntata è trash ok gli youtuber fanno tutti questi video di minecraft con queste vocine così simpatiche voglio dire la parolaccia e vanno ah non alla grande ok vai come posso poterlo portiamo 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 dai dai allora comincia a sparare un blocco lì allora perché qua 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 va la porta la porta benissimo e sono due blocchi quindi facciamo mettiamo questo qua per fare la porta ok poi comincia bene a fare così esatto poi e dovresti per allargare di più quella di quanti blocchi l'hai fatta cosa quella che sarebbe l'originale ma diciamo no l'originale cinese 2 aspettiamo e poi messo la pietra d'angolo yes allora 2 pietra d'angolo 2 porta 2 allora io la vorrei fare più grande quindi almeno direi 4 5 blocchi ma facciamo 6 cos'è esatto eh sì 3 6 e però 6 di qua e 6 di là aspetta no sto pentando una cosa perché 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 allora deve essere 7 per la centrale tu lasci 2 blocchi per la porta per noi dico per far la centrale si deve fare a 7 perché guarda 1 2 3 4 1 2 3 4 no mai o vuoi fare a 2 no allora ok facciamo come hai detto tu si ok così non ci confondiamo esatto quindi lascia i blocchi come hai visto modi porta che vanno da dentro la porta allora qua sta la porta benissimo ok ti allunghi 6 blocchi a destra e a sinistra quindi parto già qua che è 1 2 esatto 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ok 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 11 12 11 12 12 13 14 12 12 19 22 20 25 15 24 15 15 ma no si ma sto pensando aspetta no adesso però deve essere più alto guarda perché altrimenti non possiamo saltare ah ok deve essere 4 tutte queste cose vanno considerate è perché praticamente entriamo in casa tutta bella fatta e poi infatti un cuore un cuore così e poi ci vuole il vaffan cuore alla simone ciao simone alla puntata dei saluti ciao simone ciao domenica mamma sono su youtube ciao luca quindi a questo punto salutiamo proprio a tutti ok allora facciamo così ecco si possiamo saltare perché guarda c'è il blocco magico si può saltare poi qua dico in larghezza però tu in modo di essere non ti devi allungare di rosi dritto devi uscire si di 3 blocchi così metti il riva di legno 1 2 3 bene adesso devi uscire di nuovo a sinistra così però la piazza ci sembra qua di via sì di pietra sì sì ok quindi pietra e poi così nuovo eh devo questa cosa qua così però no di sole di legno ah legno legno ok legna poi ancora allora abbiamo fatto là di 6 così qua 6 vabbè 7 con il 9 allora fai 3 quindi 2 2 3 esatto e poi qua si fa 1 2 no 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 qui dove sta la terra piano qua di nuovo di pietra aspetta elimino la terra se non possiamo continuare allora qua la devo togliere e poi togliamo si ok quindi qua ci va di nuovo qua no 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 qua qui si bellissimo ok poi ma non mentre pensi io sì perché abbiamo da stabilire adesso la profondità 5 blocchi 5 blocchi di lunghezza sì di qua vedi 1 2 3 4 5 si mette un altro blocco si fa 1 2 3 si mette un altro blocco qua si fa 1 1 2 3 si mette un altro blocco abbiamo fatto l'abbiamo fatto già tutto ok ah però va bene non abbiamo considerato ok ah beh quella sorta di paludio va bonificata sì va abbonata va bonificata siamo puliti i termini tecnici proprio in modo che si voleva una finanza tutta a posto venne i controlli stanno a posto i documenti tutta a posto ci mette i sigilli 1 2 3 4 5 6 poi qua ci va la porta ci va ci va la porta la porta si ci va porta porta tanta porta tanta legna tanta porta ora devo buttarmi devo fare senza negare ah beh se anico qua sono un noob master come in Avengers Endgame sono un noob che probabilmente era Loki che voleva prendere per i fondelli per i fondelli per bacco perché sto facendo questo video non mi hanno neanche non mi hanno neanche vagato per farlo eh raga devo mandare così eh sì se no youtube ci fa un cuore così no ma poi non solo non riguardare questi video perché voglio per parole quamma così quamma vabbè allora facciamo una cosa quando facciamo i video così scrivo 18 più quale 1 2 3 4 5 e ce ne va un'altra se mette us 6 6 e quindi qua ci va il paro paro 2 3 4 dimmi qua per fuori però tu lo devi fare la stessa situation non faccio la stessa situation solo che non è il lignos quindi ci vuole la lignas ok quindi mo qua quanto deve questi li metto io ah hai messo tu ok no sì sì le ridere rotellina per to 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 tu eccola qua ci siamo riusciti vedi comunque in modo che stiamo facendo questo video con questa come si chiama con questo microfono qua dobbiamo inventarci un modo per metterlo tipo in modo che non si toghi che non si blocca ah che non ci copre la visuale sì vai a vedere vicino quanti blocchi sono eh oggi ah però aspetti giovanotto ecco qua dimmi guarda va sempre così per capire ma io qua hai messo il blocco cammina avanti vedi 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 e si anche beve ma vedi che sono un professionista e che vissi che siamo dei puliti deriviamo anche perché rocchetta puliti dentro testamente su un globulato uno come dice quello su un globulato uno ok ci siamo continuo io col pavimento io ho passato abbiamo passo e facciammi dire cosa abbiamo fatto abbiamo rialzato tutto abbiamo messo alle volte la panoramica ma quel balcone aperto sta bene secondo te ma ok ok ora il balcone è stato eliminato missione completa missione completa missione computer missione e in tutto questo che è successo che mentre costruivo mentre penso parla di jayax esplosio 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 papapam un creeper è arrivato e mi ha fatto saltare in aria se è praticamente così insomma non l'ave fatto come si dice si è palestrato così in un microsecondo da nulla all'albar all'albar è passato da nulla da nulla all'akbar è il family friendly lo puoi dire dai però è islamico è contro ah dice tu sono binari così qua ma i suoi uno sono binari però mi devo mettere così non ci interessa no tanto è esplosio il creeper no dico senza terraformare sotto si si senza terraforming un po' di blocchiere fa questo ragione secondo voi dodo lo intrappolino questo torsino albergo sono un po' di bloc andiamo a legnare se sono uscito bene si poi qua ci sono tipo di degli armonicini e quindi a me stavano di jackson perchè che stanno dicendo e si hai visto i nuovi video di giambio razzino a si è solitamente fai video con un sacco di personaggi famosi ce le verità ce le verità come mai perché certo che era mai famose quindi quindi fateci di un'idea famosi maledizione maledizione ti prego mi prego maledizione stiamo andando pure femmine femmine due sono bippate non sto lanciando un bestemmio è una gran passo in avanti avanti solitamente ne ha rilanciato già una dozzina almeno 38 invece sto facendo il bravo molto di femmine friendly ma poi a Simone piacerà femmine friendly si se lo vede si si ciao Simone sono su youtube alla Simone forse abbiamo certo che ci sono personaggi come Simone come Salvatore e noi ne rendiamo partecipi sempre anche che loro non sono presenti non sono proprio però ti fa come quando avevi stato brullarla e si mi si era ritrovato nel nulla registrato così avevi iniziato a sparare cavolate si 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 boiate 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 troppo offensiva troppo offensiva eeeh sconcerie 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 che dicevo quante sconcerie sconcerie a voi lo dobbiamo bippare no vabbè può andare dai è leggero e se sai quelle di prima erano quei santi dove l'hanno bippate quell'hanno bippate quelle obbligatorie tipo come l'esplosione e il kamikai sicuro le obbligatorie era un po' troppo dai ma forse lasciamo solo il porca porca biii si perché porca in effetti la porca è un animale e ci può stare non è proprio porca è un animale la porca è un animale la porca è di quella porca è un animale scusate perché si offende non ci capisco perché si offende il maiale no perché un animale ha da fare un porca porca di quella porca si può anche dire porca di quella porca ma penso di sì perché quello è un animale come dire che so cavallo dun cavallo no cavalla no cavallo cavalla dun cavalla poi se vai in zonno zonno però con zon che non si può no 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 però quella si sta sempre per topo lascia stare zonno lo zonno lascia stare lo zonno lascia stare ok quindi questa parte è stata costruita quasi fatta manca pochissimo manca manca pochissimo ok effettivamente mi piace pur a me ok ci siamo come sempre riusciranno i nostri eroi a concludere questa puntata allora il primo passo del movendo del momento del referendo del momento è quasi fatto dobbiamo spostare il letto che andiamo a vivere qua si letta casa nuova letto nuova mettiamolo anche non so se si è sposti se mi sono lo spawn ma nel caso io ci clicco a cazzo così per sport ok poi poi iniziamo visto che dobbiamo perdere tempo dobbiamo arrivare almeno a 20 minuti io penso che ci siamo quasi quasi e dobbiamo dobbiamo mettere qua terraformiamo in modo che non cadiamo comunque sì il nome di questa puntata è Creeper oh man perché è esplosso troppe volte sì andavo per l'inizio e poi quando stavo facendo il pavimento della casa che passo da nulla e ci ha forduti ah no piano si ha fregati ci ha fregati guardi ci l'avevo scordato eh lo so ma tu lo sai che avrei lanciato besti miei proprio a piumi però sto facendo il bravo tutto per il pubblico dei più piccini ok ci siamo vai col vetro sì sì vetra vino 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 questa mi piace la simone vino vino vetro vino vetro vetraio vetrino vetrino sembra parecchio 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 apro il covid ci manca molto trasgrede tutto trasgrede molto good e voglio dire siamo solamente al primo piano eh solo al primo piano che poi già sto macinando le idee del secondo e poi sto già macinando le idee del secondo piano come più o meno potrebbe essere guardata che con il senso ma è già sto pensando però questo lo vedete soltanto seguendo la prossima puntata di maic però almeno finiamo prima questo e poi il secondo punto ma questo fammi piacere toglilo fammi piacere toglilo ok family friend di moda attiva mi sono ricordato sento anche più carico per chi abbia solo acqua mi era venuta non lo so mi scende avanti quindi mi sono seccato l'acqua l'hai asciugato un po' però ho asciugato l'acqua ti mangia una spugna ok ora ora si può dire si biccia si biccia si e poi devo fare la presentazione da filtro filtro di quello che giuste quello che no sei un appendicite di youtube mariano valetti l'appendice di youtube mannaggia 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 c'è un po' abituare a questo linguaggio più pulito si ah ma ancora litro facci facciamolo facci facciamolo facciamolo meglio fac o facci ma meglio facciamolo visto che ci serve che viro facciamolo ma fuck mannaggia fai bravo dai dai qua è B4B no vabbè ma fuck tanto è più poi c'è tutto l'editing vabbè tanto però fuck non è facchinetti vabbè dai manca poco ah mi piace mi piace mi piace mariano ti piace mariano mi piace ti piace ti piace si e non è ancora finita è che molto trasgre eh vedrai 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 come sarà bella e poi è praticamente lo stile di questa casa si ma anche perchè per adesso questi sono i blocchi di cui disponiamo disponiamo però più avanti con altri blocchi potremmo apportare delle modifiche e sarà ancora più bella perchè avrei usato altri blocchi diversi ma già che per adesso non ce l'abbiamo vanno bene allora quindi mancano 1 2 3 3 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 e vediamo se la matematica la sappiamo 12 13 14 15 16 17 18 19 21 ora se sappiamo contare fino a 21 siamo comunque il commento sapete qual è arrivare sapremo contare di 1 e di 2 indire quando ne mi sa fare è uno stack quindi va bene insieme a piazzare questi così ne mancano sempre di meno nel frattempo fai altri eh sì così non perdiamo tempo tanto per noi siamo arrivati a un bel punto siamo arrivati a un giorno e mezzo di video ma era tanto che non facevamo video di Minecraft spero con il piacere tutti quelli che guardavano le puntate 0 no 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 c'era c'era qualcuno non ti preoccupare pochi ma buoni c'era qualcuno qua c'era ricorda anche il figlio di un amico mio il figlio di Paolo ciao Paolo e come si chiama suo figlio? eh mi sfugge il nome ah fai schifo lo so è la verità ah ma se ma fai schifo si può dire fai schifo fai schifo è un po' forte come termine è un po' scurrile e non è scurrile e so che qua te ne fatti facci facciamolo facci ma che bello sta facendo buio di nuovo pure vabbè tanto andiamo a domenica la nostra nuova house nostra dimora c'è anche dei abbiamo fatto no no mannaggia 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 tanto c'era maledizione maledizione ma che abbiamo fatto tutto si si tutto il problema controlliamo aspetta controlliamo allora qua c'è questo bicione qua c'è questo bicione 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 si bicione picione picione civetta passero e falco passerà passerà serà vetro vetro dudu dudu questo è brutto perché orecchio 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 ed è tutto pronto fatto ok quindi quindi spero che questa dodicesima puntata di sedia dodicesima sì mi sia piaciuta ricordate a tutti che questo video è family friend lì c'è la catalitica è filtrato quindi i vecchi lo possono guardare prossima giornata